Questa sera al Teatro Sociale Aldo Giuffredi, Batipaia, Enrico Loverso dà voce e corpo a uno nessuno centomila, che va in scena alle 21 per la regia di Alessandra Pizzi. Lo spettacolo è stato messo in cartellone per celebrare i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello. Molto apprezzato dalla critica e dal pubblico, soprattutto per i più giovani, si è aggiudicato nella scorsa stagione il premio Franco Enriquez. In forma di monologo, il testo è affidato al racconto e alla bravura di Enrico Loverso, che dopo anni di assenza dal teatro, torna sul palcoscenico per dar vita a un contemporaneo Vitangelo Moscarda, l'uomo senza tempo e ai personaggi del romanzo, in un allestimento minimale ma mutevole in ogni contesto.